Allora, intanto ringrazio tutti, non vorrei, intanto ringrazio la fondazione, ringrazio la fondazione, questo lavoro è nato anche per la piacevolezza degli incontri, nel senso che è nato, come ricordava anche Daniela, da un convegno organizzato da Giorgio Vecchio in un ambiente molto caldo, molto accogliente, è proseguito qui presso la fondazione dove ho fatto nuove amicizie, ho trovato ulteriori stimoli di ricerca e di ricerca in comune anche con altre persone che mi danno molto, insomma. E quindi devo dire che sono stato favorito oltre che dalla romanità che, ammetto, è un vantaggio anche da queste occasioni. Ma altri due motivi poi sono alla base. Senza queste occasioni, cioè il convegno e l'atmosfera molto gradevole e piacevole presso questa fondazione, non credo che avrei approfondito comunque la ricerca. Ma alla base stavano anche altri due motivi. Il primo è una interpretazione storiografica che mi pare sia stata colta da tutti i relatori, e cioè l'idea, secondo me, troppo facile di accettare l'interpretazione che il PC fosse, diciamo, una sorta di estensione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Se noi guardiamo i nomi di quel gruppo dirigente, francamente facciamo un torto, diciamo, a delle persone che avevano una capacità di elaborazione importante, come ce n'erano peraltro anche in altri partiti nello stesso periodo, è per carità. Però, appunto, l'idea che questo legame innegabile, queste opportunità anche date dal legame con l'Unione Sovietica, si tramutassero in una sorta di traduzione in italiano di ciò che veniva prescritto da Mosca, francamente mi pare veramente una soluzione interpretativa troppo facile e poco veritiera. E quindi, francamente, questo non aiuta a ricostruire non solo la storia di un partito, ma neanche un contesto generale, perché poi un partito ha relazioni con altri partiti, ha un livello di capacità di mediazione o di contrasto che, data quella lettura, diventa alterato. L'altra questione è che ultimamente, cioè, stanno anche in qualche dichiarazione di qualche collega, anche importante, una sorta di diminuzio della storia politica. E cioè, la storia politica è sostanzialmente al tramonto, è un genere già sperimentato, guardiamo altro. Francamente, penso e credo di essere, da questo punto di vista, diciamo, non un pasdaran assoluto della storia politica. Con la rivista Memoria Ricerca abbiamo fatto numeri su ponti, su grattacieli, sui muri, nella storia internazionale, però l'idea che dedicare tempo, ricerca, impegno, ora la storia urbana, ora la storia culturale, significhi cancellare la storia politica dal proprio orizzonte di studio, mi pare veramente una cosa un po' eccessiva. Insomma, questo, devo dire, mi fa ritornare prepotentemente nella dimensione della storia politica, perché credo che abbia una rilevanza insostituibile. E vengo poi comunque adesso ad alcune, ad alcune osservazioni, non le posso, credo, cogliere, cogliere tutte. Sicuramente, certamente, forse, diciamo, se è stato percepito così, forse il tentativo di rimettere il pendolo al centro, come diceva Renato, non sempre è riuscito. E questo io sono sempre grato a chi mi fa queste osservazioni, perché, devo dire, poi a un certo punto uno non sa più leggersi, quindi la lettura dall'esterno è una cosa che porta a una riflessione anche sulle proprie modalità di fare ricerca. Quindi, sì, può darsi che, cioè, probabilmente c'è questo, insomma, se è stato percepito così, poi da uno studioso come Renato, certamente c'è questo possibile difetto. Ma la questione è che questo era, appunto, forse, stato un eccesso di reazione a quella semplificazione, diciamo, che voleva il PC come, appunto, come una sorta di traduttore in italiano della linea politica sovietica, insomma. sull'anti-americanismo, devo dire, ecco, qui c'è anche la penultima domanda di Barbara, sull'anti-americanismo io sono convinto che un'intera nazione, era una cultura nazionale, non solo una cultura politica, e non solo le culture politiche. Diciamo, nella cultura italiana, nella cultura in generale, nel modo di percepire ciò che veniva dagli Stati Uniti d'America, c'era stata una forte diffidenza già negli anni venti, negli anni trenta, veniva da lontano, era, diciamo, questa rapida urbanizzazione, questa rapida licenziosità dei costumi, chiamiamola così, erano cose che erano avvertite come una sorta di attentata a quella cultura tradizionalista, anche un po' bacchettona, che c'era sia in ambienti cattolici, sia in ambienti comunisti. Io ricordavo nel libro come Bellinguer, che era poi, diciamo, guidava i giovani comunisti, prendesse come riferimento per le donne comuniste Maria Goretti, insomma, quindi c'era una, diciamo, non era stato sviluppato ancora una capacità di lettura di una società che poteva avere una maggiore libertà nei costumi, insomma. Guardiamo anche, appunto, a quell'unità di cui ha parlato anche Giorgio Vecchio, a quell'unità, diciamo, di modalità con cui la vita politica entrava nella vita personale, nella vita di Sereni e soprattutto della sua compagna ne era rimasta, diciamo, coinvolta, insomma. Quindi la questione, appunto, è che secondo me questo anti-americanismo, questa cultura anti-americana, va collocata più in generale nella cultura italiana, una cultura di lungo periodo. Tra l'altro, siccome la cultura americana, diciamo, non è come quasi tutte le culture del resto, non è a senso unico, ci si sarebbe dovuto fare i conti anche nei decenni successivi, perché quale cultura sposi? Quella negli anni Sessanta, quella che va a finire con Woodstock o sposi quella dei Teocon, che già, insomma, di cui già si intravedevano le tracce? E quindi, devo dire, insomma, questo è un, diciamo, fare i conti con ciò che viene da oltre oceano è stato sempre una questione molto interessante, anche perché, appunto, coinvolge non solo la percezione di militanti di un partito, ma riguarda l'intera cultura italiana. Sulla questione del dialogo con i cattolici, io la vedo un po' come la vede Giorgio, vecchio, nel senso che questo dialogo certamente ha una, anche una finalità politica, insomma, Sereni non è, così, un, non ha soltanto una dimensione personale, una curiosità di studioso, eccetera, ha una dimensione politica e, naturalmente, se avesse trovato sponda in esponenti cattolici di rilievo, naturalmente avrebbe dato ancora più risalto a quel movimento dei partigiani della pace a cui avevano aderito anche molti esponenti laici non comunisti. quindi quello, diciamo, è sicuramente un obiettivo che si era posto, Sereni, ma al di là di questo io credo che il dialogo con il mondo cattolico non, diciamo, di cui riteneva possibile una fuoriuscita da quella che, giustamente, Giorgio Vecchio ha richiamato, cioè la Chiesa del Silenzio, fosse una strategia che non riguardasse soltanto il movimento dei partigiani della pace. Cioè, in poche parole, io credo che, certamente, nel caso specifico, questo fosse un obiettivo per allargare il fronte dei partigiani della pace, ma che esistesse genuinamente in Sereni l'idea di un dialogo anche su principi generali che non fossero quelli della pace. Certamente la contraddizione, vengo qui all'altro punto messo in evidenza da Renato Moro, a mio avviso fu una contraddizione tener fuori Saragat, fu un errore politico, nel senso che, obiettivamente, Saragat aveva comportato la scissione, aveva comportato la perdita di peso della sinistra, aveva comportato un, diciamo, un, beh, aveva fatto un danno, insomma, non voglio paragonarlo ad altri personaggi di oggi, ma insomma aveva fatto un danno, ecco, alla sinistra. E questo danno bisognava farglielo pagare. Poi non dimentichiamo che già allora Saragat era in viso a molti dirigenti che, a torto, a ragione, lo consideravano un, diciamo, una sorta di, già di agente statunitense, insomma, e questo, diciamo, era una cosa che era ritenuta inaccettabile. Ma aderire a quel movimento comportava la responsabilità di Saragat. Cioè, perché accettare alcuni esponenti di altri partiti politici e non accettare Saragat? Ecco, questo io penso che appunto fosse, per i motivi che anche Renato ha ricordato, come li ho messi in luce, cioè, diciamo, anche una sorta di maggiore accettabilità nei confronti della propria base. Però certamente questo, secondo il mio modesto avviso, fu un errore e nella direzione del Partito Comunista, se non ricordo male, adesso, insomma, non ricordo tutto a memoria, diciamo, di quello che ho scritto, ma se non ricordo male ci fu anche un dibattito abbastanza vivace, insomma. Ecco, mi è interessato molto, devo dire, perché poi queste sono occasioni anche per rivedere, per vedere, per avere ulteriori sollecitazioni. Per esempio, quando Renato ci parla degli anni Ottanta, ecco, lì quel modello effettivamente non funziona. Cioè, i modelli di riferimento, ecco, io, per esempio, Andrea Guiso dice il modello di riferimento dei partigiani della pace è preso pari pari dal modello delle conferenze, delle iniziative tenute negli anni Trenta contro la guerra. Ma è vero fino a un certo punto, perché appunto poi si sviluppano negli anni Cinquanta nuove forme di mobilitazione, si è molto più attenti a sottolineare l'autonomia dei movimenti, ci sono nuove forme di partecipazione e quindi devo dire che, secondo me, tra gli anni Trenta, tra il modello degli anni Trenta e il modello degli anni Cinquanta c'è una discreta differenza, insomma. Ecco, riproporre questo modello invece degli anni Cinquanta negli anni Ottanta per le componenti che appunto anche Renato ha individuato, beh, quello diventa invece anacronistico, perché nel frattempo quei decenni lì hanno messo in luce il fatto che movimenti autonomi si potevano costituire effettivamente, al di là della spinta almeno iniziale che i partiti politici potessero dare, no? Cioè è piuttosto difficile immaginare la nascita di un movimento negli anni Cinquanta senza una spinta iniziale dei partiti politici. Ma è abbastanza facile invece immaginare movimenti autonomi, anche diciamo indipendenti dei partiti che sorgano negli anni Ottanta e quindi quel modello non solo è, diciamo, passato se non anacronistico, ma può essere anche controproducente, perché chi fa parte di un movimento autonomo che nasce, diciamo, spontaneamente sta attento a non farsi mettere il cappello da un partito politico, insomma. Questo era già successo nel decennio precedente. Però è una cosa che a me interessa molto, come può immaginare Renato, con cui ogni tanto abbiamo degli scambi di questo tipo, di confronti su di questa natura. Ora, diciamo, certo, come dicevano prima Daniela e poi Giorgio Vecchio, certamente Sereni ha una vitalità che va oltre gli anni Cinquanta, ma io l'ho abbandonato con i partigiani della pace, anche un po' perché poi lì il discorso diventa un po' difficile, cioè bisogna dotarsi di competenze tali che io francamente, di cui ancora francamente non dispongo, cioè pur avendo letto, anche prima di questo lavoro, molti dei lavori di Sereni sul capitalismo nelle campagne, sul mondo contadino, eccetera, io credo che lì serva veramente una competenza che io onestamente ancora non ho, insomma. Quindi è vero poi, se è vero, come ha raccontato la figlia, che nel Cinquantasei nella casa non campeggia più il grande ritratto di Stalin, però questo io credo non coincida con una sua completa dismissione della passione, della curiosità che l'ha animato negli anni precedenti. quindi lì bisognerebbe, insomma, ma credo che la persona molto più in grado di me di cogliere questa, diciamo, questo passaggio temporale, sia appunto Giorgio Vecchio che già conosce Sereni nella sua biografia in lungo e in largo, che potrebbe dare risposte molto più complete di quelle che posso dare io, insomma. Sto dimenticando tante cose, vorrei dire a Giorgio intanto che se, diciamo, un libro viene citato molte volte, nonostante i decenni passati, significa che è un libro di riferimento. Quindi, caro Giorgio, mi dispiace per riportarti, diciamo, così indietro del tempo, ma non c'è niente da fare. Se un libro diventa un riferimento, perché non rifarsi a quel libro, insomma? E ti bregherei anche con l'occasione di salutarmi, tutta la famiglia Sereni, perché quel convegno è stato veramente molto, molto, proprio un momento di grande, di grande simpatia, insomma, con tutta la famiglia. Il pacifismo, ecco, due cose molto interessanti che sarebbero da riprendere e sono, appunto, sono emerse sia da Renato Moro, sia da Giorgio Vecchio, cioè l'assenza di una tradizione di un movimento pacifista in Italia. È vero, è una peculiarità italiana. Giorgio Vecchio, appunto, stasera lo ha ricordato, ma appunto nel suo libro che io ho compulsato in modo continuo, anche questo aspetto dell'assenza di un vero dibattito, anzi di una sorda opposizione a qualsiasi posizione relativa all'obiezione di coscienza, ne è una traccia evidente, insomma. Ricordiamoci che durante la Grande Guerra in Inghilterra Bertrand Russell si fa sei mesi di carcere perché è contro la guerra. Ecco, questo non è proprio nell'orizzonte italiano, non solo nel periodo della Grande Guerra, ma neanche dopo. Cioè non c'è nessun tipo di, diciamo, di movimento, di sollecitazione, di impulso intellettuale, insomma. Dobbiamo aspettare il caso di Pietro Pinna in Italia, che insomma arriva un po' tardi, insomma, ed è un caso, appunto. Non è, diciamo, riferibile a questo. Quindi è chiaro che il movimento dei partigiani della pace significa anche questo, cioè significa effettivamente coprire un vuoto, ma come lo si copre? Mentre dichiarandosi pacifisti, da questo punto di vista credo che sia onesta la posizione del Partito Comunista, sia nelle parole di Sereni, sia in quelle di Togliatti. Cioè, dopo tutto, insomma, si è appena sostenuta, cioè si è appena, insomma, da solo qualche anno è finita una guerra partigiana. quindi non ci si può dichiarare pacifisti. Si può però allo stesso tempo, anche se naturalmente la cosa non è priva di una scaltrezza politica, ci si può riferire al termine però partigiano, perché la resistenza non è stata fatta necessariamente per condurre ad altre guerre, insomma, è stata una guerra civile, certamente, ma, diciamo, una volta conclusa quella guerra, beh, insomma, l'auspicio è che si possa guardare un orizzonte di pace con la possibilità di attuarla se non di imporla, insomma. Quindi l'orizzonte della pace, ma coerentemente il Partito Comunista non si può dichiarare come un partito pacifista, obiettivamente. E l'altra cosa molto interessante è, diciamo, con questo cerco di chiudere anche mettendo insieme un po' le osservazioni, è, a mio avviso, però, questo aspetto sì, di pedagogia politica, ma anche di attenzione a creare attorno a un obiettivo un movimento. Raramente, a mio avviso, nella storia del PC si è creata questa, diciamo, questa possibilità, e cioè il fatto che si accettasse che un'organizzazione contro la guerra potesse avere anche come oratori militanti non comunisti che potessero sbagliare, che, diciamo, potessero aprire autonomamente dei comitati per la pace. In Italia erano 12.000 i comitati locali per la pace, quindi, diciamo, una mobilitazione che fosse riferibile non solo ai militanti comunisti e socialisti, ma anche a, diciamo, a giovani, donne che non avevano ancora alcune intenzioni o comunque non avevano ancora preso nessuna tessera politica, è evidente, insomma. Certamente il raggiungimento dei 16 milioni nel 50 con l'appello di Stoccolma e dei 12 milioni nel 51 con l'appello di Berlino poi seguiranno gli altri, però, sempre in via declinante con quello di Vienna, eccetera, e, beh, diciamo, la dicono lunga sul fatto che nonostante tutti gli ostacoli frapposti dal governo oppure dalle autorità statali locali come prefetti e questori si arrivasse a quella cifra perché non fu una raccolta di firme sempre tranquilla e pacifica, insomma. E questo, diciamo, rispetto agli 8 milioni di voti che avevano raccolto le sinistre nel 48 era comunque un risultato ottimo. Certamente, quindi, secondo me, la questione, appunto, che bisogna leggere come frutto di questo movimento è che, credo, non si sia mai parlato tanto e tanto diffusamente di politica estera, di politica internazionale, scusate, in Italia come in quel periodo. Noi siamo abituati a un dibattito piuttosto scarno di politica internazionale, siamo abituati a un, diciamo, ad essere abbastanza disattenti sulla politica estera italiana, come cittadini, dico, e quello fu un momento, diciamo, di continuo coinvolgimento che durò anni nella lettura della politica internazionale da parte di un paese quasi sempre disabituato nella sua storia a leggere i fatti, e i grandi fatti della politica internazionale. Con quali strumenti? Anche con quelle forme nuove della politica, e qui accolgo molto volentieri la critica che mi faceva Maurizio, perché un'attenzione anche ai linguaggi, oltre che alle forme, avrebbe dato, forse, un'idea ancora più compiuta di questo aspetto. Quindi io chiuderei qui, perché sennò credo che, diciamo, andiamo troppo in lungo, ma insomma, poi ci sarà occasione con tutti voi di riparlarne. Intanto vi ringrazio sinceramente per le osservazioni che avete fatto al mio lavoro, sono state ricchissime. Insomma, come vedete, insomma, adesso, insomma, questo è già materiale per un altro saggio, magari. Quindi vi ringrazio molto, e ringrazio molto la fondazione che mi ha accolto così calorosamente. Bene, Marco, siamo noi che ringraziamo te, ringraziamo i relatori, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a questa iniziativa. Grazie e buona serata. Grazie.